Ben ritrovati e ben ritrovati, Road to 80K, quindi se già non avete fatto iscritto al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo contenuto. Grazie, bando alle ciance, ieri ho condiviso su X, anzi sui miei social in generale, dei dati che hanno colpito la mia attenzione e che ovviamente ho verificato con la Juventus. E mi riferisco al reparto ticketing, dunque biglietti e zone limitrofe. Allora, la media spettatori finora proposta dall'Allianz Stadium è di 40.117 persone, quindi pari al 96,7%, la più alta di sempre, di poco, superiore alla stagione 2019-2020, quindi 96,7% di media. Delle 9 partite disputate fin qui all'Allianz Stadium, 7 sold out, appunto su 9. E, in maniera anche vemente, cioè registrare il più 16% di visitatori per museo e stadium tour. Quindi, coloro che magari per la prima volta vengono a Torino o hanno semplicemente piacere di rivedere i numerosissimi trofei al G-Museum, effettuano questo binomio, museo più stadio, e si rileva un incremento del 16%. Ricapitolando, 96,7% di media, 40.117 spettatori, 7 sold out su 9 e aumento del 16% di museo più stadio. Piccolo spoiler, domani Juventus Salernitana sold out. Quindi sarà 8 su 10 a livello di tutto esaurito. Come dobbiamo interpretare questi dati? Innanzitutto, il tifoso da stadio è diverso da quello che condivide pensieri su social, sui forum, che si lamenta spesso. Insomma, il tifoso che può andare allo stadio, specialmente quello che magari abita più vicino, tendenzialmente la squadra la supporta sempre. Nel bene e nel male. C'è da dire che secondo me la differenza viene fatta dalla classifica. Perché se tu sei competitivo, competitivo il giusto per poter portare a casa qualcosa di importante, il tifoso ti dà fiducia. Tendenzialmente il tifoso della Juventus dà sempre fiducia alla sua scuola del cuore. Perché io ricordo anche nelle passate stagioni, in partite difficili dove l'affluenza magari non era sold out. Ma i tifosi c'erano con una Juventus che non giocava bene, con una Juventus che si sapeva che poi sarebbe stata abbastonata in termini di extracampo. Ma chi ama la sua squadra, ama la sua squadra, nel bene e nel male. E soprattutto nei momenti di maggiori difficoltà fa sentire la sua vicinanza. Attenzione. Qua ognuno poi è libero di dire la sua, specialmente sul mio canale YouTube. Cioè, se uno non apprezza il modo di giocare della sua squadra del cuore, se non gli piacciono determinati aspetti, è giustissimo che poi li sottolini. Però, magari, anche lo stesso tifoso altamente critico è uno dei primi, se non il primo, che va allo stadio. Guarda e poi giustamente giudica. D'altra parte, se vieni trattato da cliente, tu che investi dei soldi, tu che spendi dei soldi, vuoi avere anche un certo tipo di spettacolo. Io trovo che non è che poi si debba essere per forza tutti d'accordo sul fatto che ora la Juventus stia viaggiando a media scudetto, quindi tutto vada bene. Cioè, cose negative, se qualcuno non apprezza il fatto che la Juventus giochi in una determinata maniera, mi sembra più che è lecito che lo possa sottolineare. I numeri, però, sono numeri. E se questa è l'affluenza più alta di sempre, di poco superiore alla stagione 2019-2020, significa che un po' di entusiasmo ci sia. Io credo che ci sia un cauto entusiasmo. Mi spiego meglio. C'è la sensazione da parte di tutti, o meno, è la mia sensazione che la Juventus in termini di risultati stia davvero overperformando. Quindi stia davvero gettando il cuore oltre l'ostacolo. E abbiamo un po' il timore che ci possa essere un brusco risveglio, anche analizzando un po' il genere di ritorno che propone tantissimi scontri diretti fuori casa. Sebbene io sia più del partito che secondo me alcuni match è meglio giocarli fuori, anziché a Torino per caratteristiche. Però diciamo che c'è un aspetto da associare alla sorpresa. Cioè in pochi tra i tifoti giuventini si aspettavano che, giunti all'ultimo atto del girone d'andata, si potesse essere a due punti dalla capolista. Però, d'altra parte, quando arrivi a gennaio e sei lì, inizi a farci la bocca. Inizi ad alzare l'ambizione, il livello. Ed è normale ed è giustissimo che sia così. Tanti mi hanno chiesto sui social, ma secondo te, se la Juventus giocasse meglio, se ci fosse un altro nome in panchina, la richiesta da parte del tifoso, del cliente, sarebbe ancora superiore? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Io credo che poi, per esempio, se hai in squadra uno come Cristiano Ronaldo, una volta nella vita te lo vuoi andare a vedere. Se hai in panchina, hai, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, voi no, mi fateli voi. Magari è un aspetto che ti invoglia maggiormente a tirare fuori dei soldi. Su questo non dobbiamo nasconderci. Però, il mio umile pensiero è molto terra-terra. Cioè, Juve competitiva, allo stadio ci vai a prescindere. E quello fa la differenza. Quello fa la differenza. Cioè il poter lottare realmente per lo scudetto. Se lì lotti per lo scudetto, allo stadio ci vai. Anche a costo di fare grandi sacrifici, perché non parliamo di pochi soldi. Poi, se vai in una famiglia, con la famiglia, parliamo di, quindi, tre, quattro, più persone. È da nè. È da nè vero. Ma, in generale, questi numeri mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso perché non mi aspettavo che fossero così corposi. E la Juve, la Juve. Quindi io dico sempre che per un tifoso estremamente critico che decide, legittimamente, di non spalleggiare la causa di questa società, perché non gli piace l'allenatore, non gli piacciono i calciatori o la visione proprio collettiva, quanti tifosi ci sono esteri che, se non ci vai tu, ci vado io. Non è un caso che, specialmente la Juventus, stia abbracciando quel mondo. Io penso a paesi con la moneta suonante, i tifosi che magari vivono in Germania, in Austria, in Svizzera. Non è un caso che tante persone arrivino da quelle parti. Perché se lo possono permettere magari più di una persona che magari in Italia ha qualche difficoltà a far tornare i conti. Il calcio non può essere questione di vita o di morte quando devi dare solidità a una famiglia, quando devi cercare di rientrare nei parametri, budget e tutto ciò che conosciamo perfettamente. Quindi per uno che decide di voltarsi volutamente, ce ne sono X dietro pronti a prendere il suo posto. Specialmente considerando come non si parli di un impianto da 70-80 mila spettatori. Qualcuno mi ha anche, tra i tifosi di altre squadre, mi ha detto ma cosa c'è da vantarsi di riempire uno stadio con 40-41 mila persone? Innanzitutto nessuno si vanta, però i numeri sono numeri. I numeri sono importanti e credo che poi debbano dare anche il termometro della stessa piazza. Ma la mia fotografia è davvero banale. Per me la Juventus competitiva, alla fine lo stadio lo riempi sempre. perché risultatisti, giochisti, esteti e quant'altro, alla fine ciò che davvero conta, specialmente considerando uno dei motti di questa società, è vincere. E quindi vincere invoglia il tifoso ad andare sempre di più allo stadio. Grazie.